Due anni dopo la rivoluzione l'Egitto potrebbe risollevarsi economicamente grazie a un prestito internazionale. L'FMI nel secondo giorno di colloqui con le autorità egiziane ha detto di essere pronto a sostenere il paese. Il Fondo Monetario Internazionale dovrebbe sbloccare quasi 5 miliardi di dollari. L'esecutivo egiziano è stato oggetto di un rimpasto che ha riguardato tra l'altro il ministro delle finanze per poter avviare le riforme economiche. In crisi la prima fonte di ricchezza del paese, il turismo. La lira egiziana ha perso il 10% del suo valore in due anni, il 4% solo dal 30 dicembre a questa parte. La banca centrale ha margini di manovra limitati visto l'esaurimento delle riserve. L'aiuto internazionale significa misure di austerità e il governo dei fratelli musulmani prende tempo prima di adottarle di fronte all'instabilità politica del paese e in vista delle prossime elezioni.